Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. E' uscito il secondo trailer della serie dedicata al pinguino, personaggio che abbiamo conosciuto nel film The Batman, con il protagonista Robert Pattinson, diretto da Matt Reeves. Questa serie, chiamata appunto Il Pinguino, è ambientata nello stesso universo narrativo di The Batman, creato da Matt Reeves. Finora quello che sappiamo della serie riguarda la figura del pinguino che cerca di ascendere, di costruire il suo impero criminale a Gotham City. Quello che sappiamo per il momento dovrebbe essere ambientato circa qualche giorno dopo, comunque all'incirca una settimana, due settimane dopo gli eventi di The Batman. Quindi ragazzi, io adesso direi di andare a guardare il trailer e poi vediamo cosa c'è da dire. E' aiutato le persone. Se vedi a te sulla strada, si chiede a te. Quando sono 14 o qualcosa, si ha un attaccio e si mora. E' stilla guardare il cigarro. In mio vicino, si tratta una parade in sua zona. Una parade. non era un fanzo ma era un gestione un show of love of what he meant can you imagine to be remembered like that è qui molto interessante ragazzi che dire di questo nuovo trailer del pinguino serie tv che uscirà quest'anno spin off e allo stesso tempo sequel del film di the batman io sono veramente affascinato non vedo l'ora di vederla non vedo l'ora che esca tra l'altro vediamo un Colin Farrell veramente stratosferico con questo make up incredibile che già aveva nel primo film che appunto è seduto su questa poltrona e ci narra insomma che aveva come una sorta di mentore o comunque stimava tantissimo questo Rex Calabrese che tra l'altro nell'universo di Batman è il padre vero di Selina Kyle di Catwoman che nel film veniva mostrato invece Carmine Falcone quindi questa piccola chicca allora ragazzi che dire di questo teaser perché alla fine non è un trailer è un teaser la serie uscirà su Max dovrebbe uscire questo autunno se non ci sono rinvii dovrebbe essere composta da 8 episodi però per il momento non sappiamo se l'uscita arriverà anche in Italia in contemporanea non credo anche perché da noi i diritti c'è la Sky e Sky se non sbaglio comunque dovrebbe perdere i diritti dall'anno prossimo da 2025 se non sbaglio però per il momento non abbiamo date ufficiali un po' come Peacemaker che da noi in Italia uscì un anno dopo l'uscita americana insomma nel trailer comunque che a tempo di musica in calza vediamo anche questa scena di dolore dell'attrice che interpreterà Sofia Falcone Gigante la figlia un'altra delle figlie appunto di Falcone interpretata dall'attrice Christine Milioti un'attrice bravissima che ve la ricorderete come la donna dall'ombrello giallo di Hawa Meteor Mother o ancora come la moglie di Lou Solverson nella stagione 2 di Fargo insomma è un'ottima attrice Farrell sembra veramente tornato in parte appunto in quella che è per quanto mi riguarda una delle versioni più interessanti del pinguino perché le atmosfere qui sembrano molto alla I Soprano sarà una serie tv gangster totale c'è un bellissimo parallelismo vediamo anche nella regia vediamo il pinguino che sale nell'attico nell'appartamento di Falcone attraverso l'ascensore come nella stessa inquadratura che Matt Reeves utilizza in The Batman quando Bruce Wayne è devastato in cui appunto va a chiedere a Falcone cosa è successo davvero quella notte in cui sono morti i suoi genitori e che dire il trailer teaser dà le vibes di un gangster movie dove vediamo tutti i trailer raccontato attraverso appunto la figura di Pinguino seduto su questa poltrona dove ci narra anche un po' il suo passato io penso la serie sarà ricca di inganni pugnalata alla schiena chi lo sa è una serie che farà vedere come il pinguino riuscirà a prendere a scalare la società criminale a Gotham e quindi a imporsi come nuovo leader quello che prima era Falcone che l'abbiamo visto nei film di The Batman che è una stessa sequenza che è ripresa paro paro come nel film dove vediamo Robert Pattinson che va a parlare con Falcone vediamo l'ascensore che si apre e la stessa sequenza è ripresa qui paro paro dove al posto di Pattinson abbiamo Colin Farrell il pinguino perché infatti se non sbaglio forse non tutte però la maggior parte delle puntate sono dirette da Matt Reeves sono molto interessato perché io penso che in questa serie andremo a vedere un aspetto del personaggio che è quello del pinguino che secondo me forse non si era molto visto nel film di The Batman qui un pinguino che cerca appunto di scalare la società criminale quindi farà piazza pulita delle persone che si metteranno contro di lui mentre in film di The Batman era un sottoposto alla figura di Falcone era sotto di lui e quindi qui infatti non avendo più nessuno che gli rompe ma questo lo si vedeva già alla fine di The Batman quando viene catturato Falcone non ha più nessuno che gli tarpa le ali può può aspirare appunto a diventare il capoccia e qui Falcone invece arriva con fare trionfante in cui lui sta per prendere il posto di Falcone e diventare davvero il nuovo leader il nuovo gangster il vero padrone di Gotham City come ci è stato detto da Matt Reeves e queste infatti sono le basi che la serie getterà per The Batman parte 2 quindi la regia sembra interessantissima le atmosfere sono fantastiche alla gangster movie ricorda Annie Soprano Colin Farrell stesso ricorda un personaggio che potrebbe tranquillamente far parte di quella serie che dire le atmosfere riprendono tranquillamente quelle di The Batman io non vedo l'ora di vederla perché sembra una mega bomba atomica di serie e dagli l'hype è veramente incontenibile questa serie poi sarà un'apripista per The Batman parte 2 dove lì infatti vedremo il pinguino penso già a capo di tutto ora vediamo se la potremo vedere anche noi se arriverà in Italia io ragazzi penso di aver detto tutto non ho da dire nient'altro della serie quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate e noi ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video Grazie a tutti.